Siamo un gruppo di amici molto molto stretti che vanno a pescare insieme e condividono assolutamente questa passione. Tutti abbiamo patenti, barchette, quindi ci divertiamo, ci dilettiamo. E' quindi nata questa idea anche per dare un po' uno sprint in più alla zona del porto e a tutti gli appassionati del mare perché poi l'Erosine Fishing Team dovrà prendere un po' tutte le forme della pesca e quindi dalla pesca sportiva non solo in mare ma anche in acquedolci e vogliamo portare anche ad una sensibilizzazione del tema e trattare bene gli ambienti, quindi cercare di mantenere gli ambienti sani, conoscere gli ambienti locali e un domani magari iniziare anche a fare didattica per i bambini quindi per aumentare la sensibilizzazione sull'argomento e magari finire anche a organizzare delle bellissime vacanze di pesca sportiva e aperte a tutti anche a chi non ama pescare perché poi con la famiglia ci si lega. L'associazione è nata la sera del 3 aprile del 2024 o meglio in quella sera abbiamo avuto l'ingresso dei nuovi soci e oltre alla presenza di tanti graditi ospiti per noi è stato un piacere e un onore perché ha avuto una grande partecipazione, una grande affluenza e siamo molto fieri e molto contenti di questo per come la vedo io è stata la prova che insieme si possono fare cose grandi perché praticamente noi eravamo un gruppo di amici che erano legati dalla passione per la pesca e siamo riusciti a creare questa associazione, questo ente che mira a fare del bene fondamentalmente perché sì noi abbiamo la passione della pesca e quindi vogliamo promuovere questo magnifico sport ma la pesca così come il pescatore in realtà mira anche a tutelare l'ambiente e quindi l'associazione vuole proprio fare questo vuole tutelare il mare ma più in generale tutte le biodiversità perché il pescatore è un ambientalista, è una persona che proprio perché basa la sua passione sui pesci, sulla cattura dei pesci è interessato a preservare la diversità a preservare la presenza dei pesci nei nostri mari, nei fiumi, nei laghi quindi siamo molto contenti della cena che c'è stata, del progetto e per il futuro faremo altre cene, chiunque è interessato a partecipare potrà semplicemente contattarci sulla nostra pagina Instagram e poi diventare un nuovo socio del Rossini Fishing Team